Buongiorno a tutti. Sì, come si vede non è Cardinal Turkson qua, ma Monsignor D'Altosso, e Cardinal Turkson è ancora un po' ammalato, però abbiamo due ospiti, è con noi lo stesso, Monsignor D'Altosso che è ben conosciuto dal lavoro a Corunum, e anche Chiara Mirante che mi ha detto che è stata qui altre volte, però deve parlare un po' di chi può spiegare che lei è meglio, chi è o Monsignor D'Altosso. E anche dopo, se c'è qualcuno che vuole qualche battuta in spagnolo, c'è Monsignor Tejado qui, anche dal Corunum. Quindi, io lascio la parola subito al Monsignor D'Altosso, dico solo una cosa che mi sembra una frase che esce qua per me almeno, che porta insieme alla Quaresima anche un richiamo all'anno della misericordia, che è il povero alla porta del ricco, è un appello a convertirsi e a cambiare vita. Tutto qua. Monsignor D'Altosso. Ecco, buongiorno a tutti. Io non farò un discorso, credo che abbiate più o meno visto il testo. Volevo semplicemente dire due cose. La prima è che, come sapete, anche negli anni scorsi abbiamo cercato di, in qualche modo, concretizzare, se si può usare questo termine, il messaggio, con una persona che potesse dargli carne, dargli vita, in base all'esperienza che ha fatto. E quindi quest'anno abbiamo chiesto a Chiara Mirante di aiutarci a presentare, come dire, la parte viva di questo messaggio, la parte applicata. Ecco, e la seconda, questa è la prima cosa che voglio dire. Poi la seconda cosa che voglio dire è che, poi per aiutarci forse a leggere bene il messaggio, di capire che l'attenzione all'altro è in fondo è l'alterità, cioè di capire quanto l'alterità non solo entra ma cambia la vita. Ecco, e che come tutti abbiamo bisogno di questa alterità che si declina in molti modi. Poi, se volete, nelle domande potremo approfondire questo tema, perché il ricco non è ricco perché ha i soldi, ma ricco è tale perché appunto vive del suo io e non si apre all'altro. Ecco, questa è un po' la chiave del messaggio anche. Sì, io sono qui proprio perché mi è stato chiesto di raccontare qualcosa dell'esperienza vissuta con tanti fratelli poveri in questi anni. Il cuore di questo messaggio bellissimo di Papa Francesco è proprio questa riscoperta dell'altro, non come ingombro, come qualcuno che ci scomoda, ma come dono che ci porta a cambiare la vita, no? A una conversione. E questa riscoperta della parola di Dio come il grande dono. Ecco, per me in questi anni è stato proprio sperimentare quanto Papa Francesco ci ricorda con forza in questo messaggio iniziato ormai quasi trent'anni fa andare in strada di notte per mettermi in ascolto del grido di tanti nostri fratelli in situazioni di gravissimo disagio e non immaginavo appunto di trovare un popolo così sterminato di poveri e anche tante nuove povertà. Ecco, tanti ragazzi consumati dalle droghe, dall'AIDS, dall'alcol, ragazze venute qui per cercare un lavoro ma finita nel gironi infernali della prostituzione e schiavitù. E tanti bambini abusati da ogni forma di violenza. Ecco, anche lì dinanzi a questo grido e questa riscoperta, come ci ricorda Papa Francesco in questo messaggio, del volto di Cristo nel povero, del privilegio di incontrare il povero, ma anche un povero che grida perché mi ha abbandonato, mi sono chiesta cosa fare. E lì c'è stata questa piccola luce, c'erano tante povertà che non avevano semplicemente bisogno di un pasto caldo, di un letto dove dormire, di una casa, ma avevano bisogno proprio di un accompagnamento, o meglio dell'incontro con colui che è venuto per fasciare le pieghe dei cuori spezzati. Quindi l'idea di una comunità di accoglienza in cui proporre a tutti un percorso proprio sulla parola di Dio, proviamo insieme a vivere il Vangelo, anche se erano ragazzi di strada non abituati a avere la parola di Dio come un dono, tutt'altro. Ecco, questo percorso che loro hanno fatto veramente ha portato un frutto grandissimo perché hanno fatto l'esperienza del passaggio dalla morte alla vita. In pochi anni ho visto moltiplicarsi proprio grazie al loro impegno, questi centri di accoglienza, centri di case famiglie aperte all'accoglienza, centri di formazione al volontariato, e in più di 500.000 si sono impegnati proprio a vivere il Vangelo alla lettera per percorrere quelle stesse strade dove prima vivevano di espedienzi, a volte di violenza, di droga, per testimoniare l'amore, per testimoniare la gioia di Cristo risorto. Ecco, in questi anni ci siamo accorti che ci sono tante nuove forme di povertà perché è nato il desiderio anche di impegnarsi nelle scuole per la prevenzione. Per cui, se è vero che ci sono tanti dati allarmanti, proprio di povertà, sono 800 milioni le persone che soffrono la fame dai dati FAO, sono 150 milioni i bambini di strada, però ci sono appunto queste nuove povertà. Noi incontriamo tanti giovani nelle scuole, l'80% dei ragazzi vivono situazioni di grave disagio che oggi caratterizzano il mondo giovanile come abuso di sostanze stupefacenti, abuso di alcol, anoressia, bulimia, depressione e abusi nella sessualità. Questo della sessodipendenza è un problema che si considera poco, ma anche qui se consideriamo i dati sono davvero inquietanti. Sono 250 milioni secondo le stime UNICEF, i bambini abusati, i minori abusati, e il 30%, secondo dati ONU, hanno subito violenza. Ecco, dinanzi a tutte queste urgenze abbiamo sentito il bisogno di unirci a tutte le persone di buona volontà, proprio per edificare questa civiltà dell'amore, basata sulla riscoperta della forza della solidarietà, la forza della cooperazione, la forza della fratellanza universale. Ecco, una società, un mondo dove chiunque si sente disperato, emarginato, possa sentirsi accolto, sostenuto e amato. Ecco, quindi con più di 500 mila carrieri della luce, oggi si cerca proprio con questo impegno di vivere il Vangelo alla lettera, di avere un'attenzione a tutte le persone, povere fisicamente, ma anche povere, di queste nuove povertà, ecco, per riportare la speranza e per costruire insieme questa civiltà dell'amore. Grazie Chiara, adesso a voi. Buongiorno, sono Filippo Dominguez, giornale Ossan Paolo del Brasile. Da noi ogni anno i Vescovi fanno una campagna di quaresima e quest'anno hanno scelto la protezione del creato, che sarebbe il tema della Laudato Si. Non so se potete fare un commento collegando questo messaggio con il messaggio della Laudato Si, sarebbe molto utile. Grazie. Io penso che il discorso dell'alterità è evidentemente far rientrare anche questo discorso del creato. Il punto non è, il punto, secondo me, il punto importante del messaggio è come la persona, il Signore si relaziona con l'altro, l'altro che ha diverse caratteristiche, diverse forme di presentarsi. Cioè se la vita è concepita solo come un prolungamento del proprio io, o se la vita è concepita come un'apertura del proprio io. Ecco, io penso che il Papa metta un po' il dito su questo, come possiamo dire, su questa scelta fondamentale. Ecco, di un uomo che, soprattutto di un credente, che si apre all'altro, appunto con tutte le sue diverse forme in cui si presenta, oppure se è un uomo ripiegato su se stesso. Allora, il fatto che il Papa dica, in fondo viviamo dell'altro, siamo chiamati ad aprirci all'altro perché viviamo dell'altro, questo è il grande messaggio. Il ricco della parabola viene condannato, ripeto, non perché ha i soldi, anche Gesù non lo condanna perché ha i soldi, lo condanna perché aveva il cuore chiuso all'altro. Allora, il Papa dice che questa quaresima può essere un aiuto per tutti, una buona occasione per tutti, per riscoprire questa alterità. Ed è chiaro che il rispetto, cioè c'è un filo che lega tutto, come dicono i francesi, tu sei tien, c'è un filo che collega tutto, il rispetto per la vita di cui parla il Papa, il rispetto per la vita è il rispetto per la vita, scusate, il rispetto per la vita della persona, ma anche per la vita che ci circonda, dell'ambiente se volete. Io vedo in questo, vedo un collegamento. Sì, io aggiungerei semplicemente una cosa che mi ha molto colpito, che Papa Francesco in questo messaggio ci accompagna in questa riscoperta del dono che è l'altro e la riscoperta del dono che è Dio che ci parla attraverso la sua parola, proprio attraverso una parabola che è la parabola del ricco e di Lazzaro. E del ricco lui sottolinea alcuni aspetti che mi sembrano particolarmente importanti perché dipingono un po' alcune caratteristiche dell'uomo contemporaneo. Cioè lui sottolinea queste tre caratteristiche della superbia, della vanità e di questo attaccamento al denaro che lui dice che a volte può diventare il nostro tiranno Dio denaro, no? E come lui con l'apparenza cerchi di mascherare quel suo vuoto interiore. Mi sembra che qui ci sia veramente un quadro di quelle che sono le tentazioni dell'uomo di oggi che ci portano poi a fare tanti disastri di ogni tipo, fra cui anche i disastri ecologici. Quando Dio diventa il nostro, quando al posto di Dio mettiamo Dio denaro, siamo pronti a calpestare tutto e tutti, compreso la nostra casa comune. e per quella che è la mia esperienza di questi anni, no? In cui certamente mi sono occupata di disagio a vari livelli, ho scoperto che tutte queste forme di disagio, che sono delle sfide terribili che ci interpellano in prima persona, hanno poi come radice quei veleni di cui ci nutriamo e di cui il Papa Francesco qui parla, cioè il veleno del consumismo, il consumismo è entrato nelle relazioni, l'usegetta è entrato nelle relazioni, per cui non c'è più il rispetto dell'altro, ma c'è l'essere pronti, in nome di Dio denaro, a calpestare i diritti dell'altro. Il problema dell'edonismo, non c'è più ciò che è bene, ma ciò che mi piace, quindi in nome di ciò che mi piace, ciò che mi va, siamo disposti a non vedere più i minimi diritti dell'altro, compreso della nostra terra, e a fare anche lì disastri che sono sotto gli occhi di tutti. Il relativismo, non c'è più il confine fra ciò che è bene e ciò che è male, ma tutto è possibile perché così fanno tutti. Il narcisismo che è una caratteristica di questo ricco che ci viene descritto, questa ricerca dell'apparire, questo bisogno di apparire, quindi in nome del successo tutto è lecito, cioè anche distruggere la terra. Quindi mi sembrava che comunque c'era un collegamento fra questo messaggio e questo problema che in Lodato Si viene affrontato molto nel dettaglio. Mimo Muolo a venire, volevo chiedere ai nostri due ospiti se c'è in questo messaggio, io ci leggo una dimensione orizzontale che è quella che è stata descritta molto bene fino a questo momento, ma anche una relazione verticale, perché il richiamo alla parola di Dio mi sembra di capire fondamentale. Chiedo se questa lettura è corretta e come si può svilupparla. Grazie. Sono assolutamente di questa idea, cioè c'è una dimensione orizzontale, c'è una dimensione verticale che sono riassunte a pagina, ah scusate no, al numero, verso la fine del discorso, scusate, verso la fine del messaggio, quando dice, cito, chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello. Quindi il Papa mette bene in evidenza che si tratta in fondo di una stessa dinamica. Aprirsi a Dio, aprirsi a Dio e quindi alla sua parola che cambia il cuore, ha come conseguenza anche quella di aprire il cuore anche all'altro. Questo il Papa lo dice in relazione al fatto che quando il ricco si trova in paradiso, scusate, si trova nell'aldilà e dice ad Abramo vai dai miei fratelli a dire Abramo gli dice hanno già Mosè e i profeti, ascoltino loro dice il testo del Vangelo. Quindi è evidente che sta dicendo hanno un mezzo per ascoltare ed hanno un mezzo per cui attraverso questo ascolto possono diventare sensibili ai bisogni degli altri. In qualche modo, scusate se lo dico un po' banalmente, che se lo giocassero questo mezzo. Allora, questo vale per ogni cristiano. Nella misura in cui il cristiano si apre al dono della parola di Dio questo gli consente anche di aprirsi al fratello, di aprirsi all'altro. Per questo dicevo all'inizio che in fondo la chiave di questo messaggio è ti apri o non ti apri? Cioè sei un ricco che costruisce se stesso e che vive tutto come un prolungamento di sé o sei un credente che si apre all'azione alla parola di Dio e quindi si apre a quello che alla luce che la parola di Dio fa sulla tua vita? Sì, poi questa dimensione verticale mi sembra che permea proprio tutto il messaggio perché fin dall'inizio del messaggio Papa Francesco sottolinea che questo tempo della Quaresima deve essere un tempo di conversione per tornare a Dio con tutto il cuore e non accontentarci di una vita mediocre. Cioè quante volte anche noi cristiani alla fine ci diciamo cristiani ma non ci lasciamo veramente raggiungere in profondità dalla parola di Dio non ci lasciamo mettere in crisi dalla parola di Dio non proviamo a viverla alla lettera per sperimentare quelli che sono i grandi frutti. Quindi lui poi conclude che questo cammino di conversione a cui lui ci invita in questo tempo deve essere proprio caratterizzato dalla riscoperta della parola di Dio come quel dono che ci purifica dal peccato che ci acceca perché questo succede in realtà che ci acceca per riaprire il cuore all'altro e riscoprire il volto di Cristo nell'altro. Quindi è l'ABC poi del Vangelo qualunque cosa abbiamo fatto uno dei nostri fratelli più piccoli l'abbiamo fatto a noi ma credo che se lui sottolinea tanto l'accogliere la parola di Dio come dono è perché forse proprio noi cristiani ci siamo dimenticati che dinanzi alle grandi sfide che ci interpellano ho detto solo alcuni dati ma ne potremmo dire tantissimi altri sono sfide urgenti che veramente ci fanno guardare alla nostra famiglia che è l'umanità con grande tremore e preoccupazione ecco se non ci decidiamo a prendere sul serio il Vangelo e non riscopriamo che colui che ci ha creato è venuto a parlarci e quindi in quello che lui ci ha detto ci sono le risposte a quelli che sono i bisogni più profondi della nostra vita se non crediamo noi per primo che sarebbe sufficiente un gruppo esiguo di persone determinate a vivere il Vangelo per suscitare una rivoluzione capace di rinnovare il mondo ecco questo nostro mondo continua a andare alla deriva e noi restiamo lì passivi a guardare e a non sentirci responsabili in prima persona ecco credo che questa riscoperta sia urgente e che davvero è ciò che ci permette di fare questa esperienza lui conclude proprio dicendo per poter essere testimoni della risurrezione della Pasqua riscoprire della gioia della risurrezione della Pasqua l'esperienza che faccio ogni giorno con i ragazzi è proprio questa che arrivano ragazzi disperati che hanno deciso di morire e nel momento che provano a vivere il Vangelo ogni mattina noi proviamo a meditare e condividiamo qualcosa sul Vangelo nel momento che provano a vivere il Vangelo fanno questa esperienza di pienezza della gioia vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi la vostra gioia sia piena e questa pienezza della gioia poi senti di doverla testimoniare agli altri ecco quindi la dimensione verticale quella orizzontale nella croce si incontrano ma perché risplenda la gioia e la gloria della risurrezione Broca sì la domanda è per Chiara Ammirante ci potresti dare qualche altro dato su Nuovi Orizzonti il numero di persone iniziative grazie sì certo certo ecco Nuovi Orizzonti è nata con semplicità come dicevo da questo desiderio di provare a vivere sul modello dei primi cristiani e quindi metterci insieme e vivere il Vangelo alla lettera credenti e non credenti perché naturalmente chi arrivava dalla strada per lo più se credeva in Dio era molto arrabbiato con Dio perché tutti i ragazzi con esperienze di carcere con esperienze di violenze di ogni tipo però siamo partiti da questa convinzione anche se non credi in Dio Gesù è stato un grandissimo uomo che ha segnato la storia ha cambiato la nostra storia prova a vivere quello che lui ha detto per me è stato il segreto per la pienezza della gioia quindi ho solo questo tesoro da darvi ecco da lì loro stessi i ragazzi accolti che venivano ad esperienze estreme appunto di di ogni tipo di povertà ma anche quelle più più dure e carcere violenza spaccio hanno provato a vivere e hanno sentito loro di dover essere testimoni quindi di dover andare nelle strade nelle scuole nelle piazze nelle spiagge dovunque si potesse andare per testimonare questa semplice ma grandissima esperienza io ero disperato e ho trovato in colui che è la via la via per la pienezza della gioia io ero morto e grazie alla parola di Dio grazie all'amore di Dio ora sono risorto questo fatto sì che loro stessi diventassero diciamo fratelli di altri fratelli in difficoltà per accompagnarli quindi sono sorti più di 200 centri come dicevo prima sono 207 centri di accoglienza famiglie aperte all'accoglienza centri di formazione all'evangelizzazione formazione volontariato internazionale poi ci sono sei cittadelle e celule chiamiamo così che sono delle vere e proprie cittadelle che sono oltre a essere villaggi di accoglienza per tante persone nelle situazioni di disagio più varie che oggi caratterizzano le nuove povertà oltre le povertà da sempre conosciute sono anche centri di formazione dove chiunque poi vuole possa impegnarsi a realizzare nelle proprie realtà nuovi centri nuove iniziative centri di ascolto centri di prevenzione e ci sono adesso più di mille equip le chiamiamo di servizio che si impegnano in vari campi proprio per testimonare la forza della parola di Dio e portare questa speranza a tanti quindi chi si impegna nei carceri chi si impegna negli ospedali questa equipe di servizio chi si impegna nelle baraccopoli con i bambini di strada chi si impegna in comunicazione a mass media per portare un messaggio di speranza chi nello spettacolo progetti in paesi in via di sviluppo ecco c'è un po' e poi ci sono questo popolo della notte che come dicevo prima è diventato un popolo di cavalieri della luce che sono più di 500 mila che hanno preso questo semplice ma fondamentale impegno proviamo insieme a vivere il Vangelo alla lettera proviamo insieme a prendere sul serio la parola di Dio a viverla perché dinanzi alle grandi sfide del mondo contemporaneo siamo convinti che l'unica rivoluzione quella dell'amore capace di rinnovare il mondo e questo ci permette ogni giorno di andare a dormire dicendo abbiamo contemplato Dio i miracoli del tuo amore perché davvero sono più di 20 anni ormai che io ogni giorno vedo Gesù passare in mezzo ai poveri e vedo paralitici che si rialzano paralitici nel cuore feriti nel cuore vedo giovani con i cuori distrutti e queste ferite che vengono fasciate da colui che è l'amore e vedo morti risuscitare questo credo che sia l'esperienza più bella che il dono della parola accolto e il dono dell'altro accolto ci permette di fare ogni giorno qui davanti buongiorno sono Alessandro Porcari scrivo per Pace in Terra io leggo una frase il vero problema del ricco la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla parola di Dio così guardando l'attualità mi viene in mente il rapporto oggi che c'è tra i governi i muri le chiusure delle frontiere quindi il rapporto tra un mondo ricco tra governi ricchi sempre più ricchi e un mondo povero che ancora rimane sempre più emarginato quindi vorrei innanzitutto capire se l'attualità di questa frase oggi ha una dimensione politica e poi vorrei capire a che punto siamo con la stagione della nuova evangelizzazione perché effettivamente se diciamo che la radice dei mali è il non prestare ascolto alla parola di Dio allora è un problema per noi paese ricco e Europa ricca la nuova evangelizzazione grazie certamente questa è una frase scusa certamente questa è una frase importante appunto che ci fa un po' tornare a quella dimensione verticale di prima durante la sua domanda mi è venuto in mente gli ultimi 50 anni e forse più di Magistero della Chiesa quante volte la Chiesa a partire soprattutto da Giovanni XXIII perché parlo degli ultimi poi su tutti i papi hanno insistito sul fatto che un certo ordine nel mondo può costruirsi solamente su alcuni principi fondamentali e quanto anche questa voce sia stata ignorata ecco io penso che uno dei grandi uno dei grandi mali scusate alcuni mali si siano ingenerati quello che vediamo questa la sperequazione della sofferenza che questo in genere la divisione profonda tra una parte e l'altra del mondo viene anche dal fatto che questa voce profetica della Chiesa è stata ignorata per molti versi ecco perché il non prestare ascolto questo fa sì che il mondo si divida che è quello che sta sotto i nostri occhi quindi quindi da una parte io vedo la necessità appunto che e qui torno un po' anche la laudato sì che visto che lei chiede questa declinazione se vogliamo anche più più ampia di questo messaggio che è un messaggio quaresimale quindi è un messaggio per la conversione del cuore dal punto di vista personale è chiaro che questo ha anche delle implicazioni più forti no? e per me è proprio la domanda quanto quanto il mondo sia disposto ad ascoltare la voce di una chiesa che dice se non entriamo in una nuova attenzione a alle fasce più deboli della nostra società se non entriamo in questo non potremo costruire un mondo per tutti detto questo passo alla seconda parte della domanda che è questa è chiaro che l'uomo può l'uomo deve essere reso sensibile a questa voce non so come dirlo l'evangelizzazione se non arriva se non arriva la parola di Dio che tocca al cuore dell'uomo e lo cambia ecco diventa tutto un terribile moralismo questo è il punto perché noi appunto dobbiamo guardandoci indietro vedere che ci sono state tante esortazioni ma ci sono stati anche tanti non accettazioni allora come possiamo evitare la non accettazione come possiamo provocare che l'uomo accetti questo messaggio appunto il punto sta lì che l'importanza della evangelizzazione è quella di esattamente di preparare i cuori ad ricevere un messaggio che può veramente cambiare il mondo ed è evidente che appunto come dicevo perché tutto non si trasforma in un grande moralismo in un grande dovere questo può nasce solo da cuori nuovi lì è la necessità della evangelizzazione preparare dei cuori nuovi che poi siano anche in grado di costruire un ordine nuovo una situazione nuova e una maggiore anche equità sì io credo che un po' la storia dell'umanità sia caratterizzata proprio da questa paura del diverso dell'altro che come Papa Francesco dice sembra quasi scomodarci o ingombrarci oggi lo viviamo a livello veramente importante perché pensiamo solo al fenomeno delle migrazioni è un fenomeno che sta crescendo esponenzialmente e che come prima reazione causa la paura la paura dell'altro che ruberà che verrà a fare dei danni in casa mia ecco come possiamo rispondere affrontare a questa lecita paura proprio la risposta è questa è l'accoglienza alla parola di Dio che come invito cuore ci fa amatevi come io vi amato addirittura pronti a dare la vita quando io ho iniziato ad andare in strada di notte ragazzina giovane è chiaro che avevo paura perché comunque andare alla stazione termini dove c'era violenza di ogni tipo spaccio di ogni tipo immigrati che venivano con tante buone intenzioni di trovare lavoro ma poi spesso finivano nella criminalità organizzata è chiaro che c'era la paura di ogni tipo di violenza che potevo subire ma il mettersi in ascolto del grido dell'altro ti fa entrare in punta di piedi nel suo mondo e ti fa cambiare atteggiamento e allora si passa dalla paura all'urgenza di trovare insieme una risposta a quello che è la necessità il grido di Gesù che si ripete nell'altro cioè nessuno arriva lascia il proprio paese perché gli fa piacere lasciare il paese e andare in un paese straniero è chiaro che ci sono dietro delle tragedie dei drammi allora quando tu ti metti in ascolto di quel grido e scopri la tragedia che c'è dietro quel fenomeno che ti scomoda l'immigrazione per esempio allora passi dal muro al ponte come ci tante volte ha ripetuto Papa Francesco passi alla necessità di una comunione una fratellanza che dica ma questo è mio fratello cosa possiamo fare insieme per trovare delle risposte e i muri non risolvono niente perché è talmente disperata la situazione noi non la vogliamo guardare ma se pensiamo che secondo i dati Oxfam l'1% della popolazione mondiale è più ricca del 99% ecco poi di questa popolazione mondiale come dicevo prima quasi un miliardo sono in situazioni disastrose senza parlare poi di tutte le situazioni dei profughi eccetera ecco quindi è proprio questa la conversione che dobbiamo fare cristiani o non cristiani dobbiamo fare perché le sfide sono troppo urgenti per cui non si può pensare di risolvere i problemi con i muri riguardo a quanto dicevi della nuova evangelizzazione anche se da Giovanni Paolo II che siamo tutti in cammino per vivere questa nuova evangelizzazione anche lì se non ci decidiamo a fare questa svolta di passare da un cristianesimo di precetti per cui devo dire la mia preghierina devo andare la domenica in chiesa quasi ad avere buono paradiso timbro il cartellino per il buono paradiso non facciamo il passaggio che è il verbo di Dio l'Emmanuele il Dio è con noi è venuto qua giù su questa terra ha detto io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo ma avrà qualcosa di pazzescamente importante per la nostra vita da dirci se non facciamo l'esperienza che lui ci ha promesso io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo e non facciamo questi incontri ma non esiste la nuova evangelizzazione tu puoi evangelizzare se hai incontrato Cristo risorto se lui ti ha rivoluzionato la vita se ti sei lasciato raggiungere da quell'amore allora carita surgete nostra allora quell'amore infiamma il tuo cuore tu non puoi tenerlo per te devi darlo allora quell'amatevi come io vi ho amato non è un optional come sta diventando è un imperativo e a quel punto tu vedi il galeotto che ha 20 anni di carcere che proprio perché ha fatto l'esperienza dell'amore di Dio sente l'urgenza di andare non è che qualcuno gli deve spiegare come si fa sente l'urgenza di andare dal fratello e dirgli io ero morto sono risorto la via è Cristo non sono sti veleni che il mondo ci dice sarai felice se sei ricco sarai felice se farei successo sarai felice se ti anestetizzi con le droghe no quelle sono vie di morte la via è Cristo e lì troviamo la via della gioia grazie Chiara grazie a voi però vi chiedo a scendere perché sempre no no sempre vogliono fare qualche intervista alla televisione individuale grazie grazie a voi grazie a voi per l'attenzione sempre vogliono qualche intervista